Ed eccoci qui ragazzi, come sempre bentornati da Mionauta, nuovo episodio di questa serie di Civilization 6 Sto andando un po' in giro, ho appena trovato i kinimangiaro, grande cosa, quindi sto veramente riconsiderando se fare o meno una cittadina lì E a sto punto, io farei un po', no non posso, devo passare il turno Qui si stanno avvicinando Barbary Barbary Scout Vediamo se posso attaccarli già Purtroppo no Vabbè, dobbiamo passare il turno Ovviamente ci sarà qualche altra Qualc'altro accampamento in giro da qualche parte, è quello poi in verità Ok, dov'è il nostro scout? Facciamo un po' il giro intorno al kinimangiaro, vediamo che cosa c'è Qui c'è un romano Ci sono gli elefanti Probabilmente Costruire qui è un casino perché Deli 1, 2, 3, 4 Non possiamo però, quindi potremmo venire su quest'altro versante Ok, continuiamo a spingerci qua Aia Ok, continuiamo nel deserto Eeeh Che probabilmente sarà più commerciale Però qui c'è cibo Nisba A pillo delizioso Il deserto A pillo medio meno 1 Quindi andrebbe costruito tipo qua O qui Vediamo dove converrebbe farlo Continuiamo a girarci intorno Ah, qui sono montagne Ok, quindi questa è una e questa è l'altra E qui speriamo che non mi attaccano Se no me lo fanno fuori Il lupacchiotto qua Vediamo se riesco a Alzargli vicino Ah, posso attaccarlo? Non ma Però ormai l'arco finirebbe tra i detturni Seppure pure Ok Turno successivo Sono veramente combattuto Prossima colonia Se farla qui Per i soldi O farla lì Per il cibo Oh io Hanno attaccato i romani Giusto? Abbiamo un impulso per la mano d'opera Ok, abbiamo dovuto due impulsi Ma che vola st'amico? Questa purtroppo è È bosco? Quindi Sono due addirittura Sto morendo Scelgo produzione È bellissima sta zona Ah, ho trovato un'altra città Costruisci un distretto accampamento Scelgo produzione qua a Roma E io andrei già di altro colono Però pure un commerciante Non sarebbe male Quanto costerebbe un colono? 400 ammazza Un commerciante 180? Ok, quindi il commerciante Ce lo compriamo a sto punto E comprerei subito 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 Eh, comprerei Metterei a produrre un altro colono Perché a sto punto Io mi spingerei Un bel po' Commerciante in questo turno Ancora non lo posso usare Con questo posso scappare via? Sì, grande Questo è un lago Mi sarebbe perfetta Sia questa che quella Come indeciso Eh, loro sono cavalli Quindi se voglio mi vengono ad attaccare Ne ha un po' Un lavoratore romano Quindi ci deve essere una cittadina Da queste parti E anche Roma sa La vita senza immaginazione E' artigianato Che ci fornisce tante cose Quindi abbiamo qualcosa di nuovo 30% produzione Per addestrare i costruttori Che in verità Ma che diavolo? Wow Mi direi di tornare un attimino Verso casa E Tipo qui Ok Wow Un attacco in piena regola Questo ragazzi Mi sa che conviene Tornare verso casa A sto punto Comunque Costruzione lavoratore 46 turni Un 30% di sconto Non sarebbe malvagio Se ho capito bene Spero che si Come dire Si Sia retroattivo Vediamo un po' 30% produzione Per addestrare i costruttori Ok Bonus contro loro Vediamo se è vero 36 Probabilmente uno sconto Sul costo iniziale Ho preso solo 4 turni Non granché Effettivamente Vabbè Prossima scelta Manodopera di Stato Più 15% Produzione Di meraviglia Di epoca Antica Classica Il costo in mantimento L'unità Ridotto Di un oro Per turno Per ogni unità Ah Questa è interessante Questo è l'oracolo Diritto di passaggio Primo impero Tradizione militare Vabbè Andiamo per l'oracolo Sarebbe una prima meraviglia E Questi Trasferisco in un'altra città Se sono Incasinato così Forse la cosa Avrebbe più senso Mi sa di si La trasferisco qua Evitiamo casini Turno successivo Vediamo un po' Io avevo tolto La produzione specializzata Sì Ok Quindi i cavalli Si avvicinano Ok Abbiamo il tiro con l'arco Perfetto Adesso ci servirebbe Una fraccata di sordi Purtroppo Ma non ce l'abbiamo Per fare l'upgrade Del nostro Amico Dove cacchio Sta Il Fromboliere Ma lo so perso Vabbè Perché ce l'hanno ucciso Non me ne so accorto Con questi Cominano fare un giro più Alla larga Così Eccolo qua Allora potremmo fare Tre soldini con Rio Che sarebbe La traiettoria più Però Tre con Deli E due di Fede Che sarebbe un po' Una traiettoria Più lunga E andiamo su Deli Inizia rotta Oltre a portare Ricchezze Alla nostra civiltà Questa rotta commerciale Porterà lentamente Allo sviluppo di strade Eh Lo so che la cosa migliore Sarebbe stata a farle Tra le mie due città Per carità Però Sono pieno di barbari Non vorremmeno Freghino Ok Quindi Tiro con l'arco È andato Ah il frombolire è qui Ci vorrebbero Solo 30 denari Ok Non tantissimi In verità Potrei attaccare loro E gli farei un bel po' di male Quindi dopo avrebbero poca forza Per farmi danno Perfetto Il nostro amico Dove che sta Forse allora la rotta Non sarebbe stata male Farla Ah eccolo Scegli ricerca Quindi la rotta Magari non sarebbe stata male Farla Potrei fare Inricazione Potrei fare la ruota Potrei fare la valuta Questo per il mercato E magari spingo Su sta cosa Dai Tuono successivo Sto tornando indietro Con l'altro amico Mi piace farla vicino a Però se ho capito bene Qui c'è Roma Perché ho visto Un lavoratore romano Da quelle parti Non ho individuato La cittadina Ma penso che sia lì È un po' rischiosa Questa cosa Però vabbè dai Altro vino C'è vino dappertutto Da ste parti Ok Schiattiamo questo Ciao E va a fanbrodo Ok Ho fatto un passo avanti Vediamo se riusciamo a beccare St'amico Lui riusciremmo a no Abbiamo sei turni Ok Adesso riusciamo Sì Attaccherei prima lui No Vabbè Almeno gli ho fatto male Questi riesco a beccarli Porca miseria No Faccio Tutte colline Un altro lupacchiotto qua Andiamoci vicino Pieno di barbari Davvero Una cosa allucinante Qua ho sbagliato Il click Lui non può attaccare Quindi l'upgrade Costa Un turno Praticamente Ok Ok Nessuna minaccia Tranquillo Il caffè Tanto ormai Te l'ho blocchiato Mi piace dire che pratico Il misticismo militante Ma mi hanno saccheggiato Porca miseria Me l'hanno già saccheggiata La rotta Bastardi Inside Ecco perché c'era Quello lì Che stromboli Muori Eh Vaffanculo Promozione disponibile Sì Prega niente Tocca ammazzarli Quindi abbiamo perso Un commerciante 180 Monetine Andate così A schifio Cosa dovremmo fare adesso Vediamo qualcosa Che Perché per sbloccare Il prossimo periodo Storio Dobbiamo avere Un manodopra di stato Primo impero Meraviglie Manodopra di stato Ok Invia emissario Eh Con tre equipiere È un bonus Vediamo un po' Che bonus In ogni distretto Zolo industriale Quando costruisci Meraviglie Edifici E distretti Invece Con uno Qua Che cosa Prenderemo Più due fede Continuano Quindi continuano A non andar via Lui potrebbe essere Vedi Portiamo nei nostri territori Così magari dopo lo curiamo Tizio qua lo lancierei Appresso all'altro E lui lo Lo lascerei Qui In mezzo Perché lì c'è un altro Accampamento Ecco qua Finalmente Vediamo un po' Se si fanno coraggio Pure loro Ok Più quattro di esperienza Ok Secondo successivo Eh Avete rotti? Bene Fa piacere Più Le città sono così vicine Ma Io sono stato sempre E là E ne ho creato un'altra Dall'altra parte Sei qui Roma Va Vabbè Gioco alle volte Diceva Sono un po' strane Vediamo se riusciamo A spostarci E sparare No Non è quello Che volevo fa Ma ha rifregato Per la seconda volta Unità Attende ordini Ok Vediamo se Te ne vai Tu torna un attimo Indietro Adesso sulla strada Si va molto prima Peccato che Finisce là La strada Turno successivo Attendere Prego Vediamo che fai Con sto lupo Eh Su Riporta via Epoca classica Ci siamo Non consiste nel possedere tante cose La ricchezza No Ok Riportiamo Indietro Continuiamo a incalzarlo Lo becchiamo Ok Un altro Se ne va A questo punto Potrei andare a liberare Quell'accampamento Anche perché Fra un turno Avrò il colono Scelgo ricerca Raccoglio una risorsa Mi ci vorrebbe un lavoratore Ma 14 turni Muratura Le antiche piramidi Aliete Qualcosa che mi dia Le catapulte Vediamo un po' Catapulte Catapulte Vecchio sono Ingegneria Quindi dovrei sbloccare La ruota Ok Cos'amai dovessimo Trovarci in guerra Almeno un'unità D'assedio Eccolo qua Quindi adesso Ci sarebbe da decidere Se fare incazzare Roma Andando qui O andare lì Se non è Roma almeno La vorrei tenere tranquilla Quindi Con il colono Punterei da queste parti E fa questo giro qua Qui abbiamo un altro Lupacchiotto Ok Qualcuno può essere Tirato su di vita Ok lo facciamo Muro più velocemente Sulle colline Quindi lui Lo portiamo qui Quindi andrei a fare Il giro da lì Lo stesso abbiamo fatto prima Lui lo stesso E lui magari Lo portiamo da qua Invece Non si può muovere ancora Ok Vai lì Anche se è un po' lontano Dalle nostre città Ma vabbè Cosa dovremmo fare Scelgo produzione Devo rifare Il commerciante Sicuramente Turno successivo Eh lui Con una rotta commerciale 12 turni Cosa abbiamo sbloccato Corvée Eh questa non sarebbe male Però a questo punto Rimaniamo così Quindi devo Scegliere una nuova cosa Tradizione Sfaghe Passatempi Filosofia Politica Perché non posso Farla Ah no Posso farla Ah devo passare Prima per primo impero Quindi ci vogliono Tutte e due Ok Andiamo avanti Vediamo un po' Ok lui deve sta fermo Quindi cura di un mezzoturno Ah Che rompimento A questo punto Spostarsi Il colono Ok Ah quindi ci possiamo Spostare Perfetto Torno successivo Siamo lui qua Vabbè Mettiti Alla scoperta Di nuovo Torno successivo A questo punto Non mi metto a combattere Quelli Oh zitto 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 Pensavo Non avesse servito Invece Porca Andiamo avanti Ok Perfetto Mità tende ordini Torno successivo Torno successivo Non reinventare la ruota La ruota Molina d'acqua Puoi spararlo Questa No Non puoi spararlo Vieni qua Vieni qui Vieni qua Vieni qui Questo lo facciamo curare Un attimo Scegli ricerca Vediamo un po' Quindi la ruota L'abbiamo fatta Ingegneria C'è voglio 21 Mura antiche Prima Mura antiche La muratura La pulire di irrigazione Non sarebbe male Uh E' finita Un'altra 20 minuti Volano Aia Però è uno scout Fortunatamente per noi C'è un altro Qua sotto Stanno veramente Rompendo l'anima Quindi questo Lo linkiamo Così Tu Vai appresso Tu Fermo Tu Uccidi questo Quindi uno Ce lo leviamo Davanti alle scatole La ruota commerciale Tra un secondo Sarà pronta Quindi Io voglio venire Qui era la meraviglia Quindi voglio venire qua Prima o poi Dove è arrivato L'altro Amico Che stava esplorando Sparito Non lo vedo più La lista delle unità Dov'è che sta Alpro Tecnologie Alpro Progressi civici Non la vedo Azioni mappa Spigli mappa Vallo sedegico Dov'è la lista delle unità In questa versione del gioco Forse qui No È strano Strano Ma aspettavo di vederla Qui da qualche parte Visualizzo rapporti Resi risorse Stato città Ok Interessante Non ho una lista Delle unità Da nessuna parte È possibile Mi sembra Stranissimo Produzione Acquisto oggetti in cambio Acquisto oggetti in cambio d'oro Eccezione cittadini Acquista caselle Nascondimi Mappa No Clicca per spostare Visuale Ok Vabbè Se qualcuno di voi lo sa Come sempre Vi invito a lasciarlo nei commenti Chiudiamo qui L'episodio Con questo Vi ringrazio ragazzi Noi ci vediamo Nei prossimi episodi Ciao ragazzi